Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, condotta da Mirta Merlino, si sono verificati momenti di tensione e frecciatine taglienti. In particolare, Vladimir Luxuria ha attirato l'attenzione per le sue battute pungenti nei confronti di Belen Rodriguez. La puntata ha visto anche la partecipazione di altri volti noti del mondo televisivo, come Alessandro Cecchi Paone, Davide Maggio e Tiziana Rocca. Ma il vero fulcro della discussione è stato il compleanno della celebre showgirl argentina e il ricordo dei dissapori tra lei e Luxuria. Durante la trasmissione, Mirta Merlino ha chiesto a Vladimir Luxuria se avesse mai avuto conflitti con Belen Rodriguez, dato che le due avevano partecipato insieme all'Isola dei Famosi nel 2008. Luxuria ha ammesso di aver avuto uno scontro con Belen durante il reality, ma ha sottolineato che si sono chiarite una volta finita l'avventura sull'isola. La frecciatina di Luxuria su quanti fidanzati compie Belen ha scatenato numerosi commenti sui social media. La discussione ha coinvolto anche Alessandro Cecchi Paone e Davide Maggio, che hanno espresso le loro opinioni sull'argomento. Cecchi Paone ha riconosciuto il fascino di Belen e il suo impatto tra i giovani, mentre Maggio ha tentato di stuzzicare Luxuria, insinuando che potesse essere sentita intimorita dalla bellezza di Belen durante l'Isola dei Famosi. La replica di Luxuria è stata tagliente, ricordando di aver vinto il reality. La puntata si è conclusa con un acceso dibattito tra Luxuria e Cecchi Paone sulla bellezza naturale contro quella artificiale. Luxuria ha difeso il diritto delle donne di sottoporsi a interventi estetici senza essere giudicate. Luxuria ha dimostrato di non avere paura di mettere in discussione la vita sentimentale di Belen.